Dance Area è una realtà nata a San Giovanni e a Galdisone, diretta da il redattore che ha il suo interno a gruppi di studio eterogeni per età che si affacciano al mondo dell'agonismo e professionismo. Ed ecco qua Dance Area! Grazie a tutti! 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 Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!